e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi video diciamo unboxing anche se ho già unboxato ma voglio presentarvi questo questo prodotto che a mio avviso è molto utile per chi intraprende dei viaggi anche abbastanza lunghi in moto ma anche per la semplice uscita domenicale potrebbe essere utile questo prodotto che comunque trovate facilmente su amazon l'ho acquistato anch'io su amazon io l'ho trovato a circa 50 euro era in promozione vi ricordo che se volete trovare prodotti in promozione che riguardano il mondo motociclistico vi consiglio di iscrivervi al canale telegram che è qui in che qui sotto in descrizione video dove appunto posto quando capita una volta a settimana circa delle delle offerte appunto riguardanti il mondo delle moto che trovo appunto su amazon e questa era una di quelle spero di riuscire a ritrovarlo o comunque rimetterò comunque il link di questo prodotto sperando che sia ancora ad un prezzo così abbordabile 50 euro ma vediamo subito al dunque ora ragazzi questo è un power bank vedete qua però come potete vedere già da da qualche accessorio di questo power bank questo power bank della tac life in pratica ci permette di fare lo starter diciamo lo starter della di una nostra moto di una addirittura di una macchina nel caso questo quest'ultima o la moto la macchina appunto non abbia più batteria abbia la batteria comunque scarica noi possiamo tramite questo semplicissimo attrezzo un power bank semplicissimo non è molto grande vedete ci sta benissimo in una mano con questa accessorio qua appunto riusciremo a far partire anche la nostra autovettura o la nostra moto quindi nella confezione troveremo il nostro power bank il connettore da attaccare appunto al power bank per con con le prese diciamo a coccodrillo da attaccare appunto alla batteria della macchina caricatore per il power bank usb per attaccare i nostri device cellulare o qualche infatti essendo un power bank può caricare anche i nostri cellulari e qua altri vari connettori accendi si da attaccare accendisigari possiamo caricarlo tramite l'accendisigari e questo qua invece è un altro connettore per poter farsi diciamo che è un altro diciamo accendisigari attaccare direttamente ecco questo il contenuto appunto di quello che arriva questo power bank ha un unico input cioè possiamo caricarlo solo tramite questo caricatore a muro oppure come vi ho detto prima tramite accendisigari abbiamo questo connettore che appunto andrà a connettersi con le due prese a coccodrillo queste due per appunto fare partire la macchina o la moto in più poi ci sono le prese diciamo usb per consentire appunto di caricare cellulari eccetera eccetera c'è anche qui c'è il charge ovvero caricatore più veloce che ovviamente consumerà di più oltre a quel qua c'è il pulsante per accendere vedete che abbiamo cinque luci led che andranno ad indicare la carica dal nostro power bank e in più abbiamo una luce frontale che ha varie intermittenze questa dovrebbe essere se non sbaglio le sos in codice quindi ragazzi tutto questo video per presentare appunto questo accessorio qua che sicuramente mi porterò dietro per i viaggi visto che comunque se si resta a piedi con la con la moto abbiamo o la possibilità avrò la possibilità comunque di farla partire con questo piccolo accessorio non è arriva comunque in questa bella borsettina molto molto piccola non è grandissimo è comodo anche da portare in giro quindi se fosse un carico quei caricabatterie quei attenzione ragazzi comunque non è un caricabatterie quindi non vi ricarica la batteria scarica ma vi darà solo lo start se volete un caricabatterie ci sono comunque anche su amazon anche in commercio comunque caricabatterie appositi per le le batterie di auto e moto questo appunto è un power bank in più starter diciamo di emergenza per auto e moto quindi come ripeto io vi lascerò qua il link in descrizione un prodotto che consiglio sicuramente e niente ragazzi io vi ringrazio per aver seguito questo video spero che vi possa interessare questo aggeggino magari quando non mi partirà più la moto farò una prova ma comunque ho visto vari altri video se volete andare a vedere ce ne sono un sacco che comunque fanno vedere che va va questo questo accessorio qua quindi diciamo che vado sulla fiducia e me lo porto dietro nel caso resto a piedi poi vabbè chiamerò il carro attrezzi visto che c'ho anche l'assicurazione quindi niente ragazzi io vi ringrazio ancora vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto iscrivetevi anche al canale telegram che è qui in descrizione per avere appunto aggiornamenti su delle offerte che escono magari saltuariamente su amazon riguardanti anche il nostro mondo il moto motociclistico ragazzi io vi ringrazio ancora nel prossimo video vi racconterò un po quello che andrò a fare diciamo nelle mie ferie che saranno ottobre ma vi racconterò un po quello che ho in mente viaggi che ho in mente di fare anche se in questo periodo di diciamo covid sarà un po difficile organizzare appuntino le cose però vedremo un po il da farsi quindi ragazzi restate connessi al canale e ciao ciao